Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Tibusit in apertura. La cronaca truffa, le compagnie assicurative militari della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno arrestato quattro persone in penisola sorrentina. Ancora cronaca, nove persone sono finite in manette per traffico di sostanze stupefacenti, sono tutti detenuti residenti nelle province di Napoli e Caserta. Torniamo ad occuparci dell'emergenza sanitaria, non sono mancate le reazioni e i commenti di politici rappresentanti di categoria dopo l'ordinanza del governatore De Luca che stabilisce la chiusura alle 11 di locali pubblici. Sulla questione abbiamo ascoltato anche il parere dei cittadini di Torre del Greco. Prosegue il viaggio di Tibusit nelle scuole del territorio. Questa mattina siamo stati all'esterno dell'Istituto Don Lorenzo Milani, a Torre del Greco, per documentare la situazione dopo le segnalazioni giunte in redazione di genitori preoccupati sulle modalità di ingresso a scuola. Ancora abbiamo ascoltato il dirigente dell'Istituto Giulio Rodinò a Dercolano che ha ribadito, come altri presidi in precedenza, la necessità di collaborazione con istituzioni e famiglie. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha proceduto all'arresto di quattro soggetti, gravemente indiziati dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa perizia. Due di essi sono sotto la lente degli inquirenti per falsa testimonianza e frodi alle assicurazioni. Le indagini hanno permesso di accertare che l'imprenditore imputato, con l'ausilio di un avvocato, ha posto in essere due frodi ai danni di compagnie assicurative, in materia di sinistri stradali, anche mediante il ricorso a falsa testimonianza e perizia di ufficio compiacenti. Dalle indagini è emesso inoltre che i due consulenti tecnici d'ufficio, in cambio della dazione o della promessa di somme in debito e di denaro, hanno redatto delle false perizie, finalizzate a truffa e danni delle compagnie assicurative, attestando danni a cose e a persone non rispondenti al vero. Contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare si è proceduto a perquisizioni presso le abitazioni e gli studi professionali dei suddetti indagati, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova in ordine reati. Scattano le manette per nove persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti aggravato. Gli indagati sono d'età compresa tra i 21 e i 43 anni e tutti residenti nelle province di Napoli e Caserta. L'indagine, iniziata lo scorso mese di aprile, trae origine da altre attività condotta dai carabinieri del Comando di Antifalsificazione Monetaria di Roma. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e di ricostruire il loro modus operandi. Due detenuti, intrattenendo contatti telefonici con l'esterno, riuscivano a farsi inviare pacchi postali al cui interno, tra i generi alimentari, venivano occultati quantitativi di hashish che poi provvedevano a distribuire all'interno della struttura penitenziaria, avvalendosi della complicità di altri due detenuti. Il coprifuoco metterà l'economia in ginocchio. Dopo l'ordinanza del presidente De Luca, in cui viene imposta la chiusura di locali e luci pubblici dopo le 23, non sono mancate le reazioni di politici e rappresentanti delle categorie interessate. Critico il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che definisce il provvedimento inutile e addirittura dannoso. Con queste chiusure, afferma il primo cittadino, consegneremo molti esercizi commerciali alla mafia. Duro anche Schiavo, presidente dei confesercenti Campania, che prende le difese ai numerosi esercenti che dovranno limitare orari di lavoro e, conseguentemente, clientela. Questo provvedimento, denuncia, metterà l'economia della campana in ginocchio dopo un periodo già drammatico. Non tutti i ristoratori hanno accolto negativamente l'ordinanza. Enrico Schettino, titolare della catena Giappo, ha infatti invitato i colleghi a rispetto delle norme e soprattutto ad adattarsi per creare sistemi innovativi volti a garantire la sicurezza ai tutti. Aiutiamo le istituzioni ad aiutarci, è il motto del suo appello. Intanto, il Governo nazionale sembra fare marcia indietro sul contenuto del prossimo DPCM, atteso entro il 7 ottobre. Inizialmente, era stata paventata la chiusura dei locali nelle ore serali e notturne in tutto il paese ed, infatti, il governatore De Luca aveva anticipato tale misura. Tuttavia, nelle oderne dichiarazioni del ministro Speranza sulla bozza in lavorazione, non c'è invenzione riguardo al temuto coprifuoco. Il DPCM dovrebbe incentrarsi sull'obbligo di mascherine all'aperto ed in ogni ora del giorno, così come già disposto dalle regioni Campania, Lazio e Piemonte. Altro punto trattato al provvedimento dovrebbe essere quello dei controlli. In molti, infatti, hanno criticato l'assenza di forze dell'ordine impegnate a far rispettare l'enorme anticontaggio. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi reintrodurre controlli serrati e costanti, probabilmente impiegando i militari già attivi in ogni comune per l'operazione strade sicure. Penso che dobbiamo riprendere a recuperare appieno lo spirito di unità nazionale e lo spirito di marzo, conclude Speranza, quando il Paese si è stretto a corte e ha saputo essere unito. In questi mesi difficili, l'Italia ha dimostrato di essere un grande Paese e penso che arriva il tempo in cui dovremmo dimostrarlo di nuovo. Un invito che ha ribadito anche il Premier Conte. La battaglia non è vinta, la soglia di attenzione deve restare massima anche nelle settimane e nei mesi a venire. Ci troviamo all'esterno dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, attore del Greco in via Montedoro. Alle mie spalle, come potete vedere, è stata installata una sbarra automatica che impedisce i genitori di entrare e di parcheggiare in totale sicurezza. Ebbene sì, perché questa sbarra limiterebbe l'accesso ai veicoli del solo personale scolastico. Genitori costretti a sostare lungo i bordi della carreggiata in una strada nevralgica come quella di via Montedoro con tutti i rischi che ne conseguono. Papà e mamme costretti a parcheggiare lungo le strade sui marciapiedi compromettendo, rischiando di compromettere la propria sicurezza e quella dei loro bambini in quanto a pochi passi da qui c'è l'ospedale Maresca quindi il rischio è quello che passino di frequente autoambulanze e autobus di linea. In particolare sarebbe l'assenza totale di vigili urbani a destare preoccupazione nei genitori che allarmati decidono di rivolgersi alle nostre telecamere. Mamme dei bambini delle scuole elementare li devono lasciare qua fuori e quindi il bambino deve procedere dentro a scuola. Oggi diciamo non piove, ma i giorni che piovono, che piove, come si può fare? Non è fattibile lasciare una bambina qua fuori. A parte tutto questo c'è un traffico interminabile, alle 8 di mattina c'è caos sui marciapiedi l'ambulanza ha problemi a passare, il bus che scende altrettanto, una strada trucciolevole che se una mamma scende dalla macchina che piove con la bambina e con l'ombrella in mano rischia anche di cadere, di farsi male, di venire investita mentre sale l'ambulanza. È bel tempo, è bel tempo e quando è maltempo che si fa per questi bambini? A parte il traffico qua non si sa dove puoi parcheggiare. Ci sono mamme che parcheggiano sopra l'ospedale Maresca per arrivare fino a piedi. Dietro alla scuola abbiamo molti metri quadri di terreno. Magari fare un grande parcheggio e le mamme possono entrare molto facilmente creando meno confusione per la strada e dare accesso libero a ambulanza, bus perché veramente la cosa sta diventando proprio insostenibile, non se ne può più. Quindi c'è un'assenza di vigili urbani? Sì, 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 completamente. Vigili qua non ne trovi mai, non ne vedi proprio. Bisogna tutelare questi bambini, bisogna tutelare il malato che arriva nell'ambulanza. Cioè è un problema serio e non può passare. Ripeto, è insostenibile la cosa. Bisogna agire subito e presto. Proprio nei giorni scorsi il dirigente della scuola, Raffaele Palomba, aveva chiarito ai microfoni di TV Siti le ragioni che hanno portato all'installazione della sbarra automatica. Per evitare assembramenti, spiega, a malincuore abbiamo dovuto riservare l'accesso al solo personale scolastico. Ci troviamo questa mattina all'Istituto Giulio Rodinò di Ercolano per parlare con il Preside, con il dirigente scolastico Velio Scarane e fare il punto della situazione sull'adeguamento delle misure alla luce della normativa Covid. Mancano ancora i banchi, mancano ancora insegnanti, l'Istituto si è organizzato con delle turnazioni, la dirigenza è riuscita comunque a superire le mancanze, vediamo in che modo. Sicuramente i problemi sono tantissimi e questo nessuno se lo nasconde, ma credo che il primo problema più grosso sia stato quello al di là dei banchi che non sono ancora arrivati, ma abbiamo risolto con i banchi Biposto, disponendo i ragazzi in modo diverso. Abbiamo risolto per quanto riguarda le sanificazioni, le pulizie, eccetera, ma il vero problema rimangono ancora i docenti che mancano, che noi tra poco andremo ovviamente a nominare, però fino ad ora non abbiamo avuto la possibilità di far partire a regime tutta la nostra organizzazione, in quanto effettivamente se mancano docenti è un po' difficile poter cominciare. Quindi come si è organizzata la didattica in queste prime settimane? In queste prime settimane l'abbiamo organizzata in presenza, lasciando residuale la didattica a distanza, in quei casi in cui ci auguriamo che non capiti mai, si dovesse verificare qualche caso nella scuola o nelle scuole di altri fratelli e sorelle degli alunni che dovranno necessariamente rimanere a casa e in quel caso lavorare a distanza. Io credo che la cosa fondamentale sia, e qui è un appello che devo lanciare per forza, ad una coesione generale. Il problema è proprio quello dell'esterno. Non vorremmo che tutto il nostro lavoro di messa in sicurezza fosse poi all'improvviso buttato all'aria perché dall'esterno ci sono delle intrusioni. E questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Abbiamo cercato anche noi di distanziare gli ingressi e le uscite, però nonostante questo, io capisco anche la preoccupazione dei genitori, per l'amor di Dio, però dovremmo anche cercare di capire che, al di là di quello che può essere la preoccupazione personale, esiste un'istituzione dove i ragazzi stanno tranquilli, dove non hanno problemi, per cui credo che tutti quanti dovremmo a un certo punto fare a mente locale su questa situazione e dire, vabbè, cerco di dare una mano anch'io. Questa soprattutto è la cosa che ci serve di più in questo momento. La giuro di no in questo momento sta vedendo la ristrutturazione dei bagni, una richiesta che era stata effettuata da febbraio, ma solo adesso insomma viene espletata. Come si è organizzata la struttura con quest'altra difficoltà? Per fortuna siamo quasi alla fine, quindi diciamo che a regime dovremmo andare tra qualche settimana. Il vero problema è l'assemblamento nei servizi genici, perché noi più o meno abbiamo un numero di servizi genici abbastanza congruo, però comunque dovremmo fare in modo che i bambini non vadano tutti quanti insieme, quindi sarà necessario smistarli su più ore e se necessario fare anche delle turnazioni. Un appello alle istituzioni e anche insomma ai genitori, alle famiglie? Abbiamo bisogno soprattutto di certezze. Se capita qualche caso, la gestione, noi dobbiamo essere aiutati. L'ASL dovrebbe esserci un po' più vicine, i medici dovrebbero esserci un po' più vicini. Fare in modo che si attivi un circuito che sia ottimale, per cui se capita qualcosa sappiamo già tutti quanti come fare e non lasciare un po' solo la scuola di fronte a queste responsabilità. Professore, quali sono le difficoltà maggiori che lei ha incontrato durante questo periodo, nell'approccio con i ragazzi? Beh, le difficoltà che si stanno incontrando in questo periodo, che si sono incontrate anche l'anno scorso, sono notevoli, anche perché nel momento in cui abbiamo a che fare con dei bambini particolari, chiaramente tutte queste limitazioni che sono state messe in atto doverose, tra l'altro vanno a ostacolare un po' quello che è il processo proprio di lavoro tra il docente di sostegno e il bambino. Il docente di sostegno necessita proprio di un rapporto e di una vicinanza nei confronti del bambino. La situazione al momento, come è organizzato il lavoro in classe e qual è il rapporto nuovo che adesso si crea tra docente e alunno? In classe abbiamo disposto i ragazzini in una posizione tale che tra i due bambini seduti al banco ci sia una certa distanza. Chiaramente anche questo comporta delle difficoltà perché i bambini non sono abituati a stare lontano, parliamo di bambini di scuola elementare. È pensabile tornare ad una didattica a distanza con il sostegno? Con una didattica a distanza precipita completamente quello che è il significato del docente di sostegno. Io mi auguro che non ci siano lockdown, credo che ci siano sicuramente delle restrizioni e sicuramente i bambini che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno devono essere visti, devono avere una corsia preferenziale. Grazie a tutti per la cortese attenzione, per info e segnalazioni vi ricordo la mail redazione chiocciola tvcity.it oppure il numero di telefono 340 6561 484. Appuntamento a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg.